Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e benvenuti al primo episodio, come diciamo di qua, di Call to Arms Gates of Hell. Sto giocando con la versione beta della patch che dovrà arrivare, vedete la versione 1.0.29, perché secondo me aggiungi delle cose bellissime, aggiungi il supporto aereo, aggiungi attugheria fuoricampo, cambiano anche dei bilanciamenti sulle difficoltà, quindi insomma secondo me è molto molto più carina come modalità. Andiamo con la modalità conquista che vi ricordo è praticamente la parte più interessante per quanto riguarda il single player, creiamo la nostra nuova conquista, ovviamente scegliamo un nome e mettiamo germ beta, questa versione beta, youtube, se no col cavolo che me la ricordo. Come difficoltà io metterei normale, non andrei insomma ad aumentare troppo di più la difficoltà, come economia metterei sempre normale, questo insomma per avere magari la possibilità di farvi vedere qualche unità in più e poter giocare magari un po' più quello che è più affascinante, no? Piuttosto che andare magari fermi su delle unità un pochino datate, quindi insomma divertiamoci un pochino, come tipo di campagna la mettiamo piccolina così almeno non dura troppo in termini di episodi, quindi a occhio dovrebbero essere 7-8 episodi, forse una decina, vediamo un attimino, ma diciamo non vorrei andare troppo per le lunghe. Quindi abilitiamo la fog of war e andiamo in battaglia. Allora vi ricordo sempre che la modalità conquista prevede una fase di attacco e una fase di difesa, quindi praticamente avremo questo episodio che sarà l'episodio d'attacco e nel prossimo avremo l'episodio di difesa e così via, insomma, finché non arriviamo alla fine della nostra mappa. Quindi come vedete abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodi da conquistare e ogni botta che conquisteremo un nodo verremo poi attaccati. Allora la prima mappa praticamente è in un ambiente primaverile, ci dà insomma un po' di risorse, 300 diciamo chiamiamoli soldi, punti spendibili per le nostre unità, 500 munizioni e dei punti industrie. Onestamente questi punti, sono sincero, non ho ben capito perché ogni tanto cambiano, ma penso che sia diciamo il bonus della mappa che abbiamo all'interno. Ad esempio questo vuol dire che guadagniamo più risorse e poi ci sta, mi pare, l'iconcina con l'ampola della ricerca e così via. Allora abbiamo una serie di unità da poter sbloccare, quindi insomma come avete visto nella recensione, se non l'avete vista ragazzi andatela a recuperare, insomma, senza che mi dilungo troppo su questa schermata, ci sono tantissime unità da poter sbloccare e da poter utilizzare. Andiamo nel ramo di ricerca, abbiamo, dove sono, sette punti ricerca, allora io mi vado subito a prendere il calling stage numero due, quindi abbiamo la possibilità di chiamare due eserciti. Mi vado a prendere anche un recon perché insomma voglio avere qualche aereo che mi va un attimino a controllare la situazione, forse avere una rifle squad rispetto a una fanteria normale potrebbe aiutarmi, mi costi due punti va bene. Ho bisogno dei mortai, quindi investiamo altri due punti. Che carry posso sbloccare? Posso arrivare al Panzer II e non arrivo a lui? No, onestamente... Allora, fatemi un attimino togliere il rifle squad. Ok, ricerchiamo. Fatemi vedere un attimino a livello di carry chi mi vado a prendere perché è importante capire... Se il carro che ho sbloccato sei tu... Questo non ancora, mi pare, perché... Qual è quello che devo andare a prendere? Fatemi andare a vedere. P... 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 Zeta... K... P... F... W... Eh, è lui. Ma in realtà c'ha in MG... E un cannone... L55, anche qua. Sì, vabbè, da due centimetri e tu? Stesso cannone, è un stesso cannone. Ma la corazza quant'è? 335 e tu? Eh, 514. Beh, no. Investiamo qua, prendiamoci il carro aumentato. Oddio, potrei anche prendere direttamente lui, però mi sa, mi costa veramente un sacco. Che già mi costi 295. No, fermiamoci così, teniamoci un punto. Teniamoci un punto. Allora, il primo gruppo lo facciamo di fanteria. Quindi mettiamo... Loro, vedete, sono 18 punti, quindi siamo su... Ok, che se no non vedo il timer. 18 su 50. Allora, io voglio anche dei medici. Assolutamente. 22 su 50. Mettiamo un'altra squadra di fanteria che mi potrebbe aiutare. 10 punti, ci infiliamo un mortaio, che mi pare che costa 10. Esatto. Quindi abbiamo due squadre di fanteria, una squadra di mortai e un medico. La nostra squadra di fanteria è armata con un soldato con MP40 e poi tutti i soldati con la classica carabina 98K. Quindi un armamento abbastanza standard. Sono soldati semplici, 200 di HP, però noi stiamo giocando normale, quindi mi sa che forse sono un pochino più alti rispetto al multiplayer. Allora, per quanto riguarda il carro, abbiamo i punti soltanto per uno. Quindi compriamoci questo carro. E io metterei uno spotter, probabilmente. Mi costa una stellina. Ma uno lo mettiamo, dai. Uno lo possiamo anche mettere. Che c'abbiamo? C'abbiamo i bombardieri, c'abbiamo un sacco di roba. Però per ora, insomma, andiamo così. Salviamo. Il nostro carro è armato, come vi ho fatto vedere, con... Ah no, questo è diverso, scusate. Questo è un carro diverso. Vabbè, penso sia un pochino meglio. 525 d'armatura, un L40, quindi un pochino più grosso. Infatti penetra leggermente di più e abbiamo due machine gun. Quindi ci aiuta un pochino di più a reggere, diciamo, il fronte. Non abbiamo visto la mappa, abbiamo solo visto il clima. Mannaggia. Ci siamo scordati di vedere in che mappa stavamo giocando. Comunque sembra, insomma, un villaggio. Vedete, qua c'è tutta una parte di villaggio con un campo aperto, un po' di trincee. Quindi, insomma, sarà abbastanza semplice con il nostro carro riuscire a conquistare il punto nemico. Adesso vediamo un attimino se siamo vicini, perché se siamo vicini sgancio subito il Dragon. Così almeno ho una visione rapida di come sono impostate le difese. Vedo se c'hanno qualche antitank, se c'hanno qualche, insomma, unità fastidiosa, qualche machine gun che mi potrebbe dar fastidio. E in caso elimino prima loro e poi mi vado, insomma, a posizionarmi con la mia fanteria. Perché avendo solo un carro, delle manovre a tenaglia o comunque un fuoco incrusciato di carri non lo posso fare. Quindi ne ho solo uno e me lo devo tenere da conto. Non posso, diciamo, permettermi di perdere un carro. Quindi devo, diciamo, andare a rimuovere le mitragliatrici fisse oppure l'artiglieria con i mortai. E la mitragliatrice in realtà potrei anche toglierla col carro, il problema non c'è. Però, eh cavolo, siamo lontani. Siamo molto lontani. Siamo molto lontani. Allora, andiamo con le nostre unità. Non abbiamo molto. Allora, intanto iniziamo ad avvicinarci un po', giusto per avere il quadro e iniziarle a far muovere. Ecco, loro mi chiudono da qua. Sì, vorrei rimanere all'interno di questo villaggio, onestamente. Tu sbloccati, vieni qua. Modalità di fuoco, ma lasciamola così per ora e anche loro. Allora, diciamo che il terreno è abbastanza buono per combattere con il carro. Perché comunque ci sono delle case, ma sono coperto. Quindi se lui si dovesse, insomma, schierare anche su questo lato del villaggio, io col carro posso nascondermi dietro a queste case, questi capanni, e riuscire, insomma, a proteggermi da eventuali anti-tank. Il punto è abbastanza open, quindi dovrebbe avere delle unità in difesa da queste parti. Probabilmente ce l'avrà scritta dentro una casa, ma è abbastanza semplice riuscire a espugnare questo, chiamiamolo, questo fortino. E il prossimo è tutto open, quindi non ho problemi. Qua ho dei punti per poter avanzare con la mia fanteria. Posso tirar dritto col carro una volta che mi assicuro che non ci siano anti-tank. Altrimenti posso passare qua dietro, fare un giro, insomma. Ho molte opzioni. Vediamo adesso da dove arriviamo. Allora, il carro intanto lo mettiamo qui. Voi vi iniziate magari a schierare un pochino qua. Sicuramente voglio aspettare un attimino il mio mortaio, perché senza di lui ho difficoltà a rimuovere le postazioni fisse mitragliatrici o altre schifezze che mi possono tirar fuori. Allora, prendiamoci un ragazzo. Questo sarà il mio scout. Mettiti dietro al carro, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Voi vi mettete qua. E tu, guarda, intanto inizia di andare qua dietro. Ok, non vediamo nulla. Allora, tu però, per favore, levati col fuoco automatico, metti il fuoco di ritorno, così non siamo noi a sparare per primi. Infilati dentro sta casa. Allora, possiamo anche avanzare, eh. Solo che ho paura su questo lato. Mi serve un altro scout. Quindi, per favore, mettiti tipo... Lo tieni qua. Anche tu. Ritorno di fuoco. Avanziamo anche con quest'altra fanteria. Magari prendiamo questo punto. Mettiamoci qua dietro. Direi di avanzare anche col nostro carro a questo punto. Eh no, mi hanno visto. Quindi, vai giù. Ok. Tu, guarda di qua. Allora, dobbiamo... Ci sa solo fanteria su questo steccato, quindi... No, no, no. Non prendere danno. Non c'è bisogno che prendi danno. Eh, abbiamo il mortaio, quindi possiamo utilizzare il mortaio. Non è un problema. Esattamente. Ok, hanno tirato già delle smoke per coprirsi. Va benissimo. Allora, guarda. Con te... Vieni qua. No, tiratevi giù. Non voglio feriti. Tiriamo una smoke in modo che ci copriamo un attimino. E mettiamo uno scout. Non te che sei veterano. Perché c'ha i trattini qua sotto. Magari mettiamo un soldato semplice. Prendiamo a mettere dietro a questo... Ah, qua però mi stanno pushando. Quindi, sganciamo un gruppo. Vai qui. Un altro gruppo lo possiamo anche provare a mettere dietro a questo fienile. Ok. Eh, una granata tiriamogliela a questo. Eh, io direi che non ci sono grossi problemi. Possiamo spostarci qua dietro con tutti voi. Ok, perfetto. Facciamo avanzare i medici che dopo li andiamo ad equipaggiare un po' meglio. Non mi sembra che ci sia un antitanco, onestamente. Da quello che vedo mi sembra un buon momento per provare a fare... Non c'è anche uno scatto. Scatta qua dietro. Però mi servono delle unità in copertura. Fermo, dove vai così avanti. Allora, mi serve un attimino il mio mortaio. Fai fuoco a loro che stanno a terra. Ok. Scatta qua giù. In modo che possiamo dare della copertura. Affacciatevi qua. No, no, no. Tu ritirati. C'è qualcosa che mi sta bombardando. Mi sta sempre il mio mortaio. Bombarda questo steccato qui. Bene, delle unità ci sono. Qua c'è un'unità che mi vuole fiancheggiare. Va bene. Ok, lui mi sta tenendo il back. Quindi volendo possiamo anche iniziare a fare una spinta con lui e con questa unità. E ci prendiamo questo steccato. Tanto loro dell'unità l'hanno sprecata. Quindi è perfetto. Utilizziamo questo carro per avanzare un pochino. Facciamo smettere il nostro... Allora, voglio far smettere un attimino il mio mortaio. Avviciniamolo. Solo che non è coperto il mortaio. Ho bisogno di coprire il mortaio. Ci sono delle unità qua dietro, non mi piacciono. Vai qua, così le vediamo. Dov'è il mio carro? Ok, dietro l'ho steccato. Ma come cavolo ci sei finito tu qua? Vai qui. Ok, curiamolo e facciamo avanzare il carro. Bene. Dove spara questo mortaio? Ok, spara dietro. Oh, oh, attenzione, c'è una cosa brutta qua. Via, via, via. Allontaniamoci. Ti devi allontanare subito. Tira una smocca qua. Qua c'era un anti-tank, ragazzi. Non so se l'avete visto, ma è pericoloso. Tiriamo una smocca per coprire la rida del nostro carro. Ok. Avanziamo, prendiamoci un attimino questo spot. Potrei anche pensare di passare in mezzo alle foreste. Vediamo, vediamo un attimino che ci possiamo inventare. Voglio raggruppare anche tutti i miei uomini. Ok. Mettetevi qua dietro. Adesso ragioniamo su questo carro. Su questo anti-tank cosa fare. Sicuramente non mi posso avvicinare più di tanto. Prendete questo. Allora, qualcuno che mi guarda... Oddio, potremmo anche spostarlo, però è il nostro mortaio. Solo che ho bisogno di qualcuno che mi guarda il mortaio. Altrimenti è un macello. Adesso ci mettiamo anche loro qua. Li facciamo raccogliere qualche arma. Allora, entro lì siamo ben coperti. Possiamo mettere una smocca qui? Ce l'abbiamo? Dimmi di sì. Merda, non ce l'abbiamo. Tu ce l'hai? Sì. Tira una smocca qua. Copriamo la loro avanzata. E poi ci mettiamo dentro questo bunker. E andiamo a gestire un attimino il... Una granata offensiva. Allora, tu, per cortesia, vai qua. Vai un attimo in F6, in Control 6, così... Mi... Mi fai un attimo in guardia. Ok, allora. Vai tu. Dove cavolo stavo? Donato. Ok, pure se moriamo va bene. Ok, è andata meglio del previsto. Allora, fermo qua e curati. Lo so, è difficile, ma riusciamo. Ok, l'antitank lo dovevo togliere per forza. Prendiamo questo mortaglio, blocchiamogli il fuoco. E avanziamo verso il secondo punto. Bene. Abbiamo il carro. Bene, ci siamo anche curati. Lo posso raccogliere? Oh, posso raccoglierlo? Ottimo, ottimo. Allora, prendiamo tutti i miei uomini. Tutti quanti. Portiamoli questo steccato. E tutti voi anche. Tutti qui, tutti sullo steccato. Tanto va bene. Qui abbiamo il mio scout che mi copre da eventuali flank. Solo che non è che stai facendo molto bene il tuo lavoro. Quindi, per favore, mettiti qua. Ci mettiamo qui di lato. Questo lo voglio. Questo... Quest'antitank lo voglio. Poi non so se è un antitank o non ti dire. Che cos'è? Light Infantry Gun. Light Infantry, va bene. Facciamo avanzare anche i nostri medici. Vediamo se ci sono delle unità da curare. Bah, facciamolo. Qualcuno sicuramente si deve curare. Ok, curiamo le nostre unità. Qui abbiamo un ottimo punto per difenderci. Solo è molto aperto. Qua mi serve un altro scout. Allora, chi ci abbiamo? Ci abbiamo te. E poi mi serve uno scout. Allora, mandiamo questo giovanotto a vedere che succede qua giù. Dopodiché prendiamo due di voi. No, tu però sei elite. Quindi prendiamo te. Te. E te. Perfetto. Quindi voi tre mi andate in F3 e vi prendete questo. Così abbiamo un armamento. Non c'è nessuno. Oddio, mi stanno sparando. Ok. A posto. Ricarica. Bene, qui abbiamo un antitank. Che munizioni c'hai? Fammi vedere. HE che sarebbero, insomma, principalmente efficaci un po' su tutto. E questi sono penetranti contro i carri. Bene, bene. Quindi ci abbiamo un po' di cose. Perfetto. Allora, voi siete in tre. Allora, a questo punto io raggrupperei queste unità in modo che facciamo un unico gruppo. Iniziamo di nuovo ad andare con il nostro scout. Qui c'è un altro uomo. Ok. Solo che tu così non servi assolutamente a nulla. Avanziamo anche col carro un pochino. Ho bisogno di vedere che succede qua in mezzo. Quindi cerchiamo di mettere quest'unità qua giù. Giusto per avere un'idea. C'è qualcuno dietro? Vabbè, nulla di preoccupante. Ok. Voi va benissimo che state qua giù. Va benissimo. Ok. No, no, vai giù. Ok, ci sono delle unità a posto. Sono tante. Sono tante. Mettiamo uno scout, va? Ce l'abbiamo. Utilizziamolo. Qui. Fammi vedere che succede qua. In modo che posso iniziare a bombardare. Allora, voi tutti avanzate. Ah, qua ci sono altre unità però. Allora, avanzate qui dietro. Ma un gruppetto di voi si sgancia e avanza qua. Ok. Sta arrivando il nostro scout. Eccolo. Perfetto. E poi qui. Uh, guardate quanta roba. Vai, va. Buon divertimento. Divertiamoci un po'. Eh sì, adesso arriva il bello. Non mi sembra che ci sono antitanche. Forse c'è qualcosa qua giù? Che cos'è? Eccolo. Qualcosa qua giù c'è. Qualcosa qua giù c'è. Allora, possiamo fare un'idea? Cioè, ho un'idea. Andiamo qua. Ci portiamo il carro qua dietro. Tanto massacriamo un po' con l'artiglieria. Voi andate in F3. Contro il 3 e ci iniziamo a spostare qua. Non mi piace. No, no, dove vai? Oh, oh, torna indietro. Ma sei matto? Torna indietro. Torna indietro. Ma che cavolo fai? Allora, F6. Bombarda qua. E anche tu. Inizia a bombardare tutto. Qua dobbiamo fare una tempesta di fuoco. Allora, il carro lo piloto io, va. Oh, ce la fai? Gira. Ma non gira sto carro? Oh. Ok, qui. E poi qui. Perfetto. Allora, con questa unità possiamo avanzare un pochino però onestamente è un po' timore. Ho paura di andare sotto all'antitank quindi non me la vorrei rischiare più di tanto. Facciamo avanzare un pochino tutto. Ok. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa con lui. Oddio. Qualcosa c'è, ma... Ah, c'è un ragazzo qua. Allora. Fatemi vedere dove sono i miei uomini. Solo che non vedo più nulla. Quindi io direi di continuare a bombardare a caso qui con questa unità bombardate. Bene. E con loro avanziamo. Possiamo avanzare anche da qua, eh. Non è una brutta idea. E adesso vediamo un attimino se sganciare lui. E magari... Ecco, facciamolo muovere così. Devo dire, sta l'antitank. Solo che se mi muore è un macello. Non lo vedo ancora. Ok, si è girato. Si è girato a posto. Eh, mi sta aspettando. Mi ha visto. Posso provarmi ad affacciare, ma se me faccio un po'. Non è qua, però. Allora, intanto togliamo lui. E... Possiamo far avanzare loro ancora, vai. Mi devo affacciare. Devo affacciarmi con lui. Ok, l'ho visto. E' qua. Dovrei riuscirlo a prendere, in teoria. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ah, ma è sotto. Ecco perché non mi può sparare. Ok, va bene, va bene. È andata, è andata. Ci siamo. Possiamo entrare con loro. Sto carro veramente è indecente, comunque. Veramente indecente sto carro. Mi ha preso pure la torretta. Cioè, è pazzesco, ragazzi. La manovra l'avevamo fatta, ma... Dai, dai. Niente, non ce la facciamo. Tutte le mie unità sono morte? No, ci sono? Ok, allora. Fermiamo loro. Uscite da qua. Uscite. Fermiamo loro che bombardano. Fermati. Fermati. Ok. Siamo riusciti a passare. Ma quel carro lo riprendiamo, eh. Non è un problema. Andiamo... Andiamo con la pistola, vai. Un po' buggata sta pistola, eh. Ma no, ma che ciao. C'ha le crisi, questo... Questo ragazzo. C'ha le crisi. Ok. Va benissimo. E ci prendiamo anche il... Questo equipaggiamento. Vai. E direi che siamo a posto. Sette. Ci siamo, ci siamo. Siamo riusciti a prenderci... Diciamo un paio di equipaggiamenti. Abbiamo preso un antitank. Cioè, un antitank. Un light infantry gun. E penso che questa è un antitank. Però non mi ha bugato tanto. Quindi... O è un po'... Un po' così. Vediamo un po'. Light infantry gun. Sì, esatto. Ovviamente ho sparato delle munizioni poco... Poco performanti. E entra qua dentro. E ci dovremo essere, insomma. Con la nostra... Con la nostra vittoria. Beh, dai. Come primo scenario non male. Non abbiamo nemmeno perso troppe cose. Adesso facciamo un piccolo recap. Close, ovviamente. Tanto abbiamo preso tutto. Allora... Ehm... Non mi dici... Non c'è il dettaglio. C'era una cosa per vedere il dettaglio. Ma non me lo fai vedere? Forse non era da qua. Your team won? No, non me lo fa... Non me lo fa vedere. Vabbè. Ehm... Pazienza. Volevo vedere gli score della partita. Ma a quanto pare non si può fare. Forse ad almeno uno. Non mi ricordo. C'era un modo per vederlo, comunque. Ah, eccolo qua. Da qua. Unità. Ehm... 20 uccisioni, 19 la loro artiglia. L'abbiamo girata. E soltanto... Soltanto il mortaio non ha fatto un cazzo, praticamente. I rifleman 81% di efficienza, 104-125. Beh, non male, ragazzi. Non male. Non male. Allora, riterminerei qui l'episodio. Comunque abbiamo fatto la prima partita. Nel prossimo ci avremo la difesa. E organizzeremo anche, insomma, degli schieramenti migliori per difenderci. Spero che il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.